è risolvibile come un discorso soltanto l'esperienza che permette di superare questo limite la mia una o un'altra io sei durato sei durato sei durato sei durato tu hai visto che sei fatto un po' come se la canti per strada cioè un po' come lì ho un modo di cantare ma personalmente piaciuto quindi ho fatto un modo molto asciutto ho apprezzato quello che ho fatto certo si può sempre fare meglio ma no sono molto contento che brutte è bruttissimo non mi piace prendi un gioco dai prendi un gioco prendi un gioco prendi un gioco sento orecchie sento orecchie dai ora dobbiamo affrontare il discorso delle prossime puntate prendi un gioco farò un cappello produttivo e quindi solamente vi dico che ho avuto iniziare a con i miei esperimenti scientifici però forse è presto per voi per come vi percepisce ancora adesso dei belli foto filmati per cui ci saremo dentro anche la prossima volta tutti e tre e qui lo giuro questo lo giuro dalla prossima puntata io farò delle assegnazioni temate questa volta bu diciamo un gioco non c'è un legame vieni in gioco dai c'è senza dubbio hai ragione perché io abbia assegnato un brano piuttosto che un altro hai ragazzi è arrivato in gioco ma non è un gioco grazie